Prima di andare avanti con questo studio sulla distruzione, ma probabilmente io l'ho denominato desolazione di Gerusalemme, perché è così la stiamo nella storia di guardia, ma non voglio entrare, soltanto in ultimo, e metterlo nei miei reti della storia di guardia come parte finale, soltanto. Sto analizzando quello che è la storia della distruzione di Gerusalemme, del narcotonoso, e voglio attraverso le scritture convincermi sempre di più che il Dio parla e quelle cose si avverano, il Dio profetizza, fa profetizzare, e quelle cose diventano una realtà. Quindi mi convinco anche attraverso dei calcoli, calcoli matematici proprio, che quello che è scritto sulla Bibbia è verità. Noi abbiamo affrontato questo discorso facendo una lunga introduzione ai fatti che precedono la distruzione di Gerusalemme. E abbiamo già visto come la storia stessa, la storia ci dice, delle volte comunica qualcosa la nostra fede, specialmente quando mettiamo in relazione alla parola di Dio, a quello che succede veramente. E ci convinciamo che la parola di Dio sta dicendo la verità. Quindi stasera vedremo come esiste l'inverso, questa osservazione che ha fatto Vittorio riguardo, dice, la storia da posto interroga la fede, ma succede anche l'opposto, la fede che interroga la storia. A certi momenti ci accorgiamo che tutte e due le soluzioni sono valide. Siamo arrivati al punto che il popolo di Israele si divide in due parti, in due tronconi. Una è il regno di Israele, il cosiddetto di Israele, con a capo Samaria e l'altro con a capo Gerusalemme, che è il regno di Giuda. Il regno di Israele finisce prima, proprio addirittura per il comportamento dei molti re, e quello di Giuda poi lo seguirà a ruota dopo più di cento anni. Abbiamo detto che a un certo punto il libro dell'Irona è che si interessa soltanto del re di Giuda. Si interessa del re di Giuda non soltanto perché è finito il regno di Israele, per cui dall'altra parte non c'è, c'è soltanto distruzione e gli abitanti sono stati deportati, con l'ultimo re Osea, e lo vedremo adesso apologando nella storia e nella cronologia che cosa, in quale momento è stato successo questo, ma anche perché poi quello che ci interessa a noi e quello che credo interessa è anche a Dio, conduci verso l'avvento di Gesù Cristo, attraverso Giuda, attraverso David. E ci siamo accorti che in effetti se uno analizza la promessa fatta a David del regno che non sarebbe mai cessato, se uno analizza soltanto la storia, dice ma questa profezia non si è alberata. Però se lo vede dal punto di vista dell'avvento del Cristo, quella profezia, lui che è il discendente di David, e questa profezia si albera. Allora io voglio ricominciare proprio da questa divisione che c'è stata in questi due regni, vedendo questi eventi del regno di Giuda. Abbiamo detto che in questi anni della durata del regno di Giuda, se non mi ricordo male 359, ma basta fare le somme di quegli anni che regna ciascun re, ci sono stati venti re che si sono succeduti a regnare su Giuda. Questi sono i primi dieci. Vedete, ho eliminato, diciamo, quando il popolo era unito sotto Saulo che era stato il primo re, poi c'è stato successivamente dopo Saulo c'è stato Davide, dopo Davide c'è stato Salomone, diciamo il regno si spacca a metà e troviamo Roboamo nel regno di Giuda che era il primo re dopo la separazione dei due regni. Allora 17 anni, analizzando tutti i libri, le regno, le regno, eccetera, tirando fuori tutti questi valori e li ho riportati in un elenco. Questo per il momento è il primo elenco. Vedete, ci sono Roboamo figlio di Salomone, poi Abidjan che è figlio di Roboamo e così via, sono tutti figli, 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 figli. C'è soltanto questa altra via, questa altra via che è madre di Acrazia e che è una usurpatrice. Praticamente non gli aspettava di salire sul trono, però siccome ha ammazzato tutti gli eredi al trono e ha preso il potere lei per una forma di reazione, perché gli avevano fatto qualche altra cosa prima, e non sapeva che però di questa stirpe se ne era salvato uno, perché era stato nascosto nel Tempio di Gerusalemme ed è cresciuto lì. E questo è Ioas. Questa storia allora la vediamo scritta in secondo me al capitolo 11, versetti 3, da 3 a 21. E perché l'ho voluta mettere qui in mezzo? Per capire che sempre adesso facendo i conti di questi anni, 17 più 3, 41 più 25, eccetera eccetera, arrivati ad Atalia non dice quanti anni è stata Atalia. Però attraverso la scrittura che Dio ci concede di conoscere quanto tempo è rimasta al trono Atalia. Perché questo ragazzo, Ioas, è rimasto per sei anni, per sei anni nascosto. E poi a un certo punto quando ha compiuto il settimo anno lo hanno acclamato re, è uscito fuori, è spuntato fuori, lo hanno acclamato re. Quindi si evince che sono almeno 6-7 anni che questa Atalia è stata sul trono. Quindi aggiungere 7 anni a questa cronologia. Questi re che sono stati sottolineati sono quelle tra questi primi 10 che si sono comportati bene agli occhi dell'Eterno. Quindi già i primi 10, già il 50% hanno fallito l'obiettivo rispetto a Dio. Non hanno superato l'esame perché Dio con la storia, quando riporta la storia, rigiudica in funzione di quello che è il loro comportamento rispetto all'unico Dio, rispetto all'idolatrini e all'imbi e rispetto ai comandamenti di Dio. Questa è la prima parte, se no vi ricordo sempre di intervenire quando volete. I secondi 10 re, come vedete sui secondi 10 re, ci sono alcuni che hanno regnato per parecchio tempo e alcuni che invece hanno regnato per poco, tre mesi, vedete, di Ioachas e Ioachin, lo stesso tre mesi. Questo lo spiegheremo perché sono gli ultimi re, quelli che si comportano più male di tutti agli occhi di Dio e che ricevono la loro retribuzione immediatamente. Sono quelli che precedono immediatamente la distruzione di Gerusalemme e c'è una decadenza completa. Questi re che si ribellano continuamente anche all'Egitto che li avevano sottoposti e anche al re di Babilonia, all'Asiria prima, poi Babilonia e così via. Comunque, guardate, l'ultimo re che si è comportato bene, allora Iodano si è comportato bene ai luci di Dio, Ezechia si è comportato bene, Giosia si è comportato bene e l'ultimo re però che ha fatto un periodo di restaurazione, ma poi c'è una decadenza completa. Giosia ha questo figlio, Ioachas, e poi quest'altro figlio, Ioachin, e poi Sedechia, Sedechia che è sempre il figlio di Giosia. Per cui da Giosia, vedevo il padre che si è comportato bene come re, sono seguiti i tre figli che salgono sul trono, tutti e tre maledetti, tutti e tre che si sono comportati male. Tante volte dicevi che il padre è il buon esempio, ma non lo so, questa è la storia, questa è la storia. Scusami, Giosia si è scollocato, era quello che ha trovato i morti dell'articolo di Dio del Tempio. Esatto, esatto, e ha presentato la donazione, ha fatto sparire anche, vogliamo vederlo, secondo lei, a capitolo 22, versetto 1 che ci dice i 31 anni, il lettore che c'ha, è uno che se la sente rileggere e mi segue per cortesia. Secondo lei, a capitolo 22, 22, versetto 1 e 2, Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Iedida, figlia di Adaria, da Bosca. Egli fece ciò che è giusto ai occhi del Signore e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Quindi vedete come io ho riportato fedelmente per ogni re 31 anni in questo caso di regno, perché la scrittura me lo dice. Io ho analizzato tutti questi libri, primo re, secondo re, primo re, secondo pronache, il libro di Geremia, il libro di Daniele e quando trovavo questi dati mi incasevavo e li mettevo al punto giusto. in alcuni notare, ad esempio Sedevia, Sedecia o Sedevia, che è l'ultimo re, che a un certo punto non si chiamano più con il nome proprio, ma a qualcuno gli cambia il nome. Il nome proprio è una matta mia e invece gli viene cambiato il nome in Sedevia, poi lo leggeremo. Anzi, lo leggeremo adesso, secondo re, 24, da 17 a 18, fino al 19, diciamo. Secondo re, 24, da 17 a 19. Il regno Pionia, che c'era al posto di Joachim, Mattania, dio di lui, al quale cambiò il nome chiamandolo Sedechia. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme 11 anni. La sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia, Dalibna. Il coraggio, si, è indifferente, ma è male alle occhie del Signore in tutto e per tutto come aveva fatto a Joachim. A causa del dire del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li cacciò via dalla sua presenza e Sedechia si rivelò al re di Babilonia. È interessante per ogni re seguire queste storie perché ci fa capire come il Dio interviene e mette le giuste commissioni per alcuni di loro, per alcuni proprio direttamente. Poi vedremo per Sedechia addirittura una fine molto difficile perché come gli aveva profetizzato Geremia dice tu vedrai con i tuoi occhi il re di Babilonia, ti verranno scesi i figli, erano sgozzati i figli davanti a lui e poi a lui gli vengono calati gli occhi, come aveva detto Geremia, in maniera che l'ultima immagine che lui avesse quando aveva la vista era proprio i figli sgozzati. Io credo che siano delle punizioni fremente, però se voi analizzate ciò che Geremia aveva detto per bocca del Signore e che queste cose si avverano e poi collocate queste profezie al momento storico in cui sono state fatte e quindi capisci che c'è l'anticipo in cui il Signore gli avvisa e poi queste cose si realizzano e dico, queste certamente parole di Dio non puoi scampare, perché come qua ci va a dirlo, in presenza poi di testimoni, in presenza davanti al Tempio di Gerusalemme dalle volte, se voi leggete questi libri collocandoli storicamente entrate proprio nella storia. Io entro direttamente nella storia, mi sento partecipe di quella storia, di quelle cose che stanno avvenendo. Ma questo ci ritorneremo magari più tardi. Allora, chiaramente io non vado ad analizzare uno per uno di tutti i re. A me interessa la distruzione di Gerusalemme e prendo a riferimento gli ultimi re di Giuda. Gli ultimi re di Giuda, Giosia l'abbiamo letto adesso, l'ultimo re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e poi inizia la decadenza che porterà alla fine del regno di Giuda. Dopo Giosia si susseguono quattro re con governi brevi e in due casi brevissimi, soltanto tre mesi. Non ci avrebbe fatto caso, ma se noi ritorniamo dietro, tre mesi, Giosia, attenzione qui, perché si fa sempre confusione. Anche la mia traduzione della Bibbia, quella della... la riveduta della... come si chiama? E' la quella... non è la Buzzi, quella della... E' la Biodati. E' la Biodati. E' la Biodati, mi scambia un nome tra Yoyachim e Yoyachim. Ricordatevi che c'è un Yoyachim e suo figlio Yoyachim. E quindi sono padre e figlio, uno regna 11 anni e l'altro regna 3 mesi. Quando si parla di Yoyachim, di Yoyachim è quello che è stato poi deportato e rimarrà fuori per 37 anni. Yoyachim invece viene ucciso. Comunque, vedeteci, insomma, due che regnano per 11 anni, Yoyachim e Sedechia, e tra due che regnano per soltanto 3 mesi. Ok? Ultime le di Giuta. Yoyachim, figlio di Giosia, regna soltanto 3 mesi, si ribello al faraone Neco che lo assoggettò di nuovo e lo condusse prigioniero in Egitto. Sono tutte cose previste queste, eh, se vuoi andare a vedere le profezie, c'è qualcuno che ti dice, il profeta ti dice sempre, qualche profeta ti dice, non fate così perché il Signore ha detto questo, 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 in un arcantissimo, e quando si avverano quelle cose, e allora dice, ma questo non veramente è stato, o è stato scritto a posteriori oppure, e questo non è possibile, perché quando lo vai a collocare nel punto giusto ti accorgi, e non l'ha detto sicuramente prima perché ci sono dei testimoni, tra l'altro. E poi Yoyachim, figlio di Giosia, che regna 11 anni, nel frattempo si va fermando l'impero babilonese e conquista anche l'Egitto e Giuda. Quando Yoyachim si ribella a Nabucodonosor, Nabucodonosor lo sottomette di nuovo e lo deporta in Babilonia, ponendo sul trono Yoyachim, che è il figlio soltanto per tre mesi. E poi c'è Yoyachim, figlio di Yoyachim, il suo figlio dura tre mesi perché, a seguito di una nuova ribellione, viene detronizzata e portata a Babilonia. Viene così posto sul trono di Giuda, Sedechia, o Sedecia, che è l'ultimo è. È il terzo figlio di Giosia, Sedechia, l'abbiamo visto con la discendenza, perciò è lo zio di Yoyachim, che regna 11 anni. Il nono anno del suo regno si ribella a Babilonia, allora Nabucodonosor pone l'assedio con le Gerusalemme sotto assedio e dopo due anni la città cade. Sedechia è portato prigioniere a Babilonia, in sua presenza vennero uccisi i suoi figli e poi gli vennero cavati gli occhi. Il riferimento, secondo lei, 25, da 1 a 7. Ci crediamo, se non ci crediamo lo leggiamo, altrimenti andiamo avanti, ci crediamo. Però il riferimento, se lo volete andare a vedere, è quello lì. Vediamo intanto che cosa succede in Assiria. Prima in Assiria, poi che succede a Babilonia? Perché la Bibbia ce lo consente di andare a vedere che cosa succede negli altri regni, ma in maniera un po' limitata per quello che riguarda soltanto le interazioni tra questi regni. Cioè se qualche regno fa qualcosa al regno di Giuda o Israele, e allora viene nominato il re e le azioni che compie, altrimenti passa in un secondo ordine. Quindi noi conosciamo dalla Bibbia soltanto quelle cose che sono inerenti al popolo di Israele. È soltanto questo aspetto qui che il Signore ci fa conoscere. Quindi che cosa avveniva in Assiria e in Babilonia dopo? La Bibbia ci consente di seguire la storia di questi regni solo in relazione agli eventi che interessano i due popoli. Ad esempio, per quanto riguarda la caduta del regno del Nord o di Israele per mano degli Assiri, che appena i tempi di Osea, re di Israele, la Bibbia dice così, secondo lei 17 da 1 a 6. Io consiglierei però di leggerlo tutto questo qui, perché io ho ricordato soltanto la parte che mi interessa. Forse è meglio leggere secondo lei 17 da 1 a 6. Ve lo leggo io. Ricordate, il dodicesimo anno di Agaz, dice. Mettiamo in mente il dodicesimo anno di Agaz. Re di Giuda, Osea, figlio di Ela, cominciò a regnare su Israele e a Samaria, e regnò nove anni. E gli feci ciò che non aveva gli occhi del Signore, non però come gli altri re di Israele che l'avevano preceduto, Salmane Aser, re di Assiria, marciò contro di lui, e Osea fu sottomesso a lui e gli pagò un tributo. Poi il re di Assiria sovrì una congiura organizzata da Osea, il quale aveva inviato dei messaggeri a So, re d'Egitto, e non pagava più il consueto tributo annuale al re d'Assiria. Perciò il re d'Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene. Dopo il re d'Assiria invase tutto il paese, marciò contro Samaria e l'assediò per tre anni. E guardate la storia, come è preciso nel versetto 6, nel nono anno di Osea, il re d'Assiria prese Samaria, deportò gli esbrai dì in Assiria e li collocò in Ana e sull'Abor, fiume di Gozan, e nelle città dei Medi. Da tutto quello che abbiamo letto, io ho messo in risalto il dodicesimo anno di Akhaz, che cosa succede ad Osea, e il nono anno di Osea, che è lavorato del suo regno. E la Bibbia ci consente di fare i collegamenti tra ciò che avviene in Assiria, ciò che avviene nel Regno di Israele e ciò che avviene nel Regno di Giuda. Sono tre cronologie che si interessano una con l'altra e che noi possiamo mettere in fila, una contro l'altra. Allora, è possibile, io che cosa ho fatto? Quello che succedeva in Israele, nel Regno di Israele, non solo quello che succede in Giuda, che è la parte che mi interessa, poi a fianco ho messo quello che succedeva in Israele e poi a fianco ancora quello che succedeva in Assiria. E ho riportato tutto su una cronologia di Giuda. Adesso vi faccio vedere. Guardiamo l'esempio. Quando è finito il Regno di Israele? Quando è caduta Samaria? Secondo il regno 17 dice che il dodicesimo anno di Akhaz, il regno di Giuda, Osea figlio di Eva, cominciò a ridare su Israele e venivano nove anni. Quindi ho preso questi dati e poi, prendendo il regno dei re di Giuda che abbiamo visti prima, colloco cronologicamente il fatto in relazione al regno di Giuda. Allora, questa è la collocazione che faccio. Akhaz, figlio di Yotam, abbiamo visto nell'elenco dei re prima, questo Akhaz figlio, che è regno a 16 anni. Se lo vogliamo controllare, c'è il secondo regno di 16, versetto 2. Da qui proprio è vinto. E ti dice che ho sviluppato praticamente questi 16 anni, uno, due, tre, fino ad arrivare qui a 16. Poi dice che il dodicesimo anno di Osea, dice il secondo regno, l'abbiamo letto, ve lo ricordate? E ho messo l'inizio del regno di Osea, al dodicesimo anno di Akhaz. Poi che cosa è successo? Chiaramente Akhaz regna a 16 anni, uno fino a 16, no? E poi subentra Ezechia, da Peverinico, e dice che Ezechia regna a 29 anni, secondo regno 18, versetto 2. Intanto Osea, questo è il regno di Israele, intanto Osea sta al primo anno, e ti ha detto quanto tempo regna Osea? Nove anni. Nove anni. Nove anni, sì. Nove anni. Nove anni. Allora, andiamo avanti adesso. Quindi, qui c'è il passaggio tra Aghaz e Ezechia, vero? Poi inizia il primo anno di Ezechia. Fino a 29 dobbiamo arrivare. Intanto, da sta altra parte, c'è la cronologia di Osea. E andiamo avanti. Ricordate, il 12 di Akhaz, l'inizio del regno di Osea. Poi il tredicesimo anno e il primo di Osea. E andiamo avanti. Il sedicesimo anno di Akhaz e il primo anno di Ezechia, ed è il quarto anno di Osea. E trovate i riferimenti. Secondo re 18, 2. Il secondo anno, corrisponde al quinto, il terzo anno al sesto, il nono anno, è la fine del regno di Israele con Osea, è la deportazione del popolo. E secondo re 17, versetto 6, che dice, l'ultimo versetto, dice nel nono anno di Osea, ve lo riletto, nel nono anno di Osea, il re di Assisi ha preso San Maria, dei portoi, che sarebbe in Assisi ha riporto in ala, sull'Avor, fiume di Corsa, nella ricetta del regno. Vedete come corrisponde? Ogni scrittura, messa a punto giusto, ti fa fare questo confronto tra questi regni. Questo è soltanto un esempio di come sto lavorando per cercare di collocare la cronologia di tutti gli avvenimenti che avvengono prima della distruzione di Gerusalemme. Questa nel caso specifico è la distruzione di San Maria, avvenuta molto tempo prima. Ma noi passeremo adesso con lo stesso metodo ad analizzare che cosa avviene nel regno di Giugano. Interrompetemi sempre, eh, se riuscite. Sto cercando di spiegarmi il più possibile, non so se ci riesco. Sto andando avanti, cioè, mi state seguendo, se mi preoccupa, questo, se non seguite, perché poi non possiamo andare avanti. Allora, è possibile pertanto, seguendo questo metodo, ripercorrere gli eventi che hanno preceduto e seguito la distruzione di Gerusalemme. Seguendo quel metodo di cronologico, rapportando tutto al regno di Giuda, io sono riuscito in qualche maniera a far collimare le cose. La Bibbia non consente una datazione assoluta, badate bene. Cioè, se uno diceva, allora, la distruzione di Gerusalemme va a durare 586-587 avanti Cristo. La Bibbia non te lo consente, questo. Però ti consente, con quelle cronologie, di fare una datazione comparata oppure una datazione relativa. Che cosa vuol dire? Eh, io posso comparare gli eventi, li posso collocare, ma che precisione ha questo rispetto a una datazione assoluta? Allora, la datazione assoluta, tu sai, qualcosa di fuori che contenga il tempo e poi colloca le date negli avvenimenti, no? Ma qui c'è soltanto l'interazione tra le due. Dice quanto dura un regno, gli dice quanto dura quell'altro, come si mettono in fase dei due regni, ma come faccio io a vedere che cosa sta succedendo e se ci sono degli argomini nelle date, come faccio io? Allora io ho pensato, del mai capitato di avere una bilancia sballata, nel senso che non è azzerata. Quello che vi dico è valido per tutte le unità di misura, anche nelle misure elettriche, succede la stessa cosa. Cioè io ho la bilancia che non mi mi... va bene come bilancia, però non è azzerata. Cioè tu praticamente ci metti un chilo sopra di far lucire in mezzo e sballata. Come faccio io a eliminare questo errore? Cioè voi donne dovete fare una volta, una volta, va bene? C'avete una bilancia che non vi va bene. Funziona la bilancia, però non va bene perché non vi dà il peso assoluto, va bene? Come faccio io a utilizzare questa bilancia? Cioè io la cambio? Non si spiega bene. No, invece tu fai... Allora, devi mettere tre etti di zucchero in una torta, tu prendi tutto il pacco di zucchero, quanto pesa? Un chilo e mezzo? Lo metti sopra e questo anziché un chilo e mezzo ti fa un chilo e sette. Da questo chilo e sette devi levare i tre etti. Tu da una... vuoti una parte, rifai la pesata e la differenza, cioè quella che tu hai messo da parte, sono esattamente i tre etti che ti servono. Quindi io con questo sistema elimino l'errore. In questo succede tutte le unità di misura, cioè due pesate, alla fine con due pesate, due pesate, io annullo l'errore soltanto vedendo la differenza. Qual è la sua idea? Ok? In questo concetto è molto... Allora io questo metodo voglio usare per vedere se le cose che mi dicono riguardo la fine del regno di Giuda, quello che mi propongono, se c'è errori o non c'è errori? Perché se non c'è errori vuol dire che la datazione è esatta, altrimenti c'è una bilancia di la pena, se no. Se ci sono errori, controllo l'errore e qui mi accorgo se mi sta dicendo il vero o no. Ricordatevi che il metodo che io uso è quello di verificare ogni cosa e ritenete bene, provate agli spiriti, se sono per Dio. Quindi se tu mi dici una cosa io la provo prima e poi vediamo se tu dici la verità o meno. Ok? Questo concetto della datazione assoluta che non è possibile, noi siamo abituati il metodo prima di Cristo dopo di Cristo ma allora non c'era prima di Cristo dopo di Cristo l'abbiamo inventato dopo. Dobbiamo soltanto andare avanti con queste comparazioni. Allora, vediamo la cronologia degli eventi. Partendo da Dio Iachim con la M figlio di Giosia regna 11 anni il suo nome era Iachim e la domanda è questa perché gli cambia dal nome? Abbiamo visto prima a Sedequia come gli cambia dal nome vogliamo una Sedequia perché gli cambia il nome? Vi siete mai chiesto questo? Perché Dio cambia il nome ad Abramo? Perché ha fatto un periodo della sua vita e non ho un significato che è come un pseudonimo sicuramente ha un significato qualche altra idea? Va bene nel caso di Dio è una cosa guardiamo nel caso che succede perché a un certo punto uno si comporta male o crede va Nabucodonosor lo piglia lo conquista di nuovo e gli cambia il nome avrà un significato questo? Perché Dio poi alla fine cambia il nome ad Abramo oppure a Giacobbe lo chiamano il dreve vuol dire che il Dio è il conquistatore il conquistatore che ti cambia il nome che ti sottomette ti fa servo quello vuol dire io ti chiamo così perché tu sei sottoposto a me allora quando Abramo viene chiamato Abramo da Abramo a Abramo proprio che sia oppure Giacobbe viene chiamato il dreve vuol dire che il Dio lo ha preso come suo servo come suo schiavo lo ha sottomesso e gli ha cambiato il nome perché gli appartiene credo che finezza che c'è nella scrittura sui cambiamenti i nomi hanno un significato il cambiamento del nome ha ancora un significato ancora più importante io non so come ci chiamano Dio a ciascuno di noi potrà se ci cambia il nome oppure a noi io lo so comunque gli oriachimi allora lì abbiamo detto gli oriachimi 11 anni e loro le ho riportate e poi su 20 iomiacchini che arriva per tre mesi più precisamente tre mesi e dieci giorni guarda è preciso anche nei giorni delle volte secondo corona che è 36 no se lo vogliamo reggere ci andiamo altrimenti andiamo a vi fidate vi fidate comunque voi prendete appunti io ve le lascio voi andate a controllare che io ho riviste tre volte queste cose quindi non spero di non essermi sbagliato poi viene messo sul trono da Nabucodonosor Sedechia Sedechia che arriva per 11 anni col nome Mattania si chiamava Mattania ma poi Nabucodonosor lo chiama Sedechia il decimo giorno del decimo mese Nabucodonosor iniziò l'assedio di Gerusalemme e vogliamo leggere quello del secondo re 25 1 chi l'ha trovato ricordatevi delle cose sono i primorescento 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 veramente poi non leggeremo tutto il capitolo 25 lo leggeremo completamente perché c'è tutta la storia lì ma l'uno che dice allora l'anno nono del regno di Sedechia il decimo giorno del decimo mese Nabucodonosor re babilonica vende con tutto il suo esercito contro Gerusalemme si accampò di fronte a essa e il re costruì attorno delle trincere fermiamoci un attimo qui non dice che il nono anno di Sedechia il decimo giorno del decimo mese Nabucodonosor inizia l'assedio di Gerusalemme praticamente e io fedelmente proprio il nono anno di Sedechia c'è da mettere chiaramente sarebbe da sviluppare questa cronologia anche quei giorni ma diventa molto più difficoltosa la cosa perché diciamo in questa questa conteggio qui è all'approssimazione di un anno addirittura quindi comunque non ha non ha importanza io cerco di rimetterlo fedelmente e sto vedendo quello che sta succedendo nel regno di Giuda ricordatevi e poi nell'undicesimo anno nell'undicesimo anno di Sedechia il giorno il nuovo giorno del quarto mese si apre una breccia nelle mura non ci può secondo me 25 2 3 la città fu assediata fino all'undicesimo anno di Sedechia il nuovo giorno del quarto mese la carettia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese allora dice che l'undicesimo anno di Sedechia il giorno nove del quarto mese praticamente c'è una breccia nella città cominciano a cadere le mura con un buco panno un buco una volta mi ricordo che ho fatto una meditazione proprio su non mi ricordo se era di Geremia oppure qualche altro profeta che Dio gli dice fai una cosa esci di casa portati portati addosso il bagaglio come se tu andassi in esilio poi avvicinati alle mura di Gerusalemme e fai un foro nelle mura di Gerusalemme e la gente ti domanda ma che stai facendo tu sei profeta che stai facendo e lui dice con questo segno questo è quello che avverrà per la città e guarda che la profezia si avvera quel segno che lui fa è un segno che diceva così succederà e quello sta avvenendo adesso non mi ricordo in quale parte l'ho presa non sono andato a me cercare però ci sono queste profezie così precise che mi lasciano proprio l'intervento le cose che mi dicono ma guarda Dio come ti avvisa ogni volta sempre prima quello che succede anche a noi oggi noi non ce ne accorgiamo perché se il Signore dice lo sto io ritornerò io farò e ti avvisa continuamente io ti prenderò con me in cielo eccetera e noi stiamo lì con l'aspettativa l'aspettativa eccetera qualcuno ci crede qualcuno non ci crede se ci credi lo aspetti altrimenti la gente dice ma non mi importa niente è quello che succedeva allora con i profeti quando facevano queste previsioni e poi alla fine quando succedevano queste cose c'era ragione c'era ragione la storia da conferma la fede e viceversa allora poi il settimo giorno del quinto mese e questo nebozzala da ma che è il generale di Nabucodonosor brucia e distrugge la città e deporta i superstiti lasciando alcuni dei più poveri vuoi andare avanti dall'otto al ventuno del capitolo 25 il settimo giorno del quinto mese era il dicianno mesimo anno di Nabucodonosor re di Babilonia nebozzala capitano della guardia del corpo funzionale del re di Babilonia giunse a Gerusalemme bruciò il tempo del Signore e il palazzo del re e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme tutte le case dei grandi personaggi ancora? è appena tu ma sei che c'è tutto l'esercito dei caldei che era con il capitano della guardia abbatté tutte le mure di Gerusalemme nebozzala capitano della guardia deportò i superstiti che erano rimasti nelle città i fuggiaschi che si erano arresi a re di Babilonia e il resto della popolazione il capitano della guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a continuare le vigne e a i caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nella casa del Signore le basi e il mare di bronzo che era nella casa del Signore e ne portarono via in metà la Babilonia presero le pegnate le pavette i coltelli le coppe e tutti gli utenzi di bronzo con i quali si faceva il servizio il capitano della guardia prese pure i fraceli e le bacinese ciò che era d'oro e ciò che era d'argento quanto alle due colonne al mare e alle basi che il salomone aveva fatta per la casa del Signore il metallo di tutti questi oggetti aveva un peso incalcolabile ciascuna di queste colonne era alta 18 cupidi e aveva sopra un capitello di bronzo alto 3 cupidi e attorno al capitello c'erano un reticolato e delle melagrame ogni cosa di bronzo così era la seconda corona munita pure di reticolato il capitano della guardia prese il seraia il suo sacerdote la sofonia il secondo sacerdote e i tre portodi della porta d'ingresso e prese nella città un eunuco che comandava la gente di Perla 5 uomini dei consiglieri intimi del re che furono trovati nella città il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e 60 privati che furono anche essi trovati nella città nel consulatà capitano della guardia di Perse ricondusse dal re di Pabilonia a Ripa e il re di Pabilonia li fece uccidere a Ripa nel paese di Camat bene e qui abbiamo detto tutta la storia no? abbiamo detto la storia ma avete fatto caso al versetto 8 da un'informazione cronologica importante il versetto 8 dice che il settimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor questo riferimento ci fa mettere in fase il regno di Babilonia con quello di Giuda dice perché la scrittura mi dice queste cose? probabilmente per mettere in relazione uno con l'altro allora noi possiamo accostare una cronologia rispetto ad un'altra no? dopo per finire la storia poi c'è il governadorato di Godonia o Ghedalia c'è una volta che hanno portato via una parte degli abitanti facendo quei conti lì che hai letto 10.000 6.000 1.000 sono circa 18.000 persone che vengono portate a Babilonia e Nabucodonosor mette a capo di Genusalemme i quei pochi sugesti che sono rimasti questo Godonia Godonia viene ucciso dopo 7 mesi di regno non era un re però un governadorato dopo 7 mesi venne ucciso da alcuni della discendenza reale che poi a seconda volta scappano via per paura della ritorzione dei babilonesi vanno via in Egitto comunque deportazione inizio del governadorato di Ghedalia secondo Re 25-22 Ghedalia lo venga per 7 mesi Ghedalia i giudei e i gastei lasciano a governare Giuda vennero uccisi dopo 7 mesi di governadorato da Ismael figlio di Netania nella stirpe reale così va avanti il racconto se noi lo leggiamo poi gli oppositori fu con l'Egitto per paura della ritorzione dei babilonesi se leggiamo tutto quanto è così considerato che l'anno ebraico era composto da 12 mesi da 12 mesi alla fine del decimo anno di Sedechia la eh non vede di 15 considerato che l'anno ebraico è composto da 12 mesi alla fine dell'undicesimo anno di Sedechia cioè alla fine perché praticamente aveva detto 5 anni se vi in Genova il quinto anno vi torniamo un attimo indietro allora il settimo giorno del quinto mese era l'undicesimo anno di Sedechia quindi Sedechia è entrato nel quinto anno e il settimo giorno del quinto mese si distrugge la città poi viene messo no Ghedaria al comando che dura 7 mesi allora 5 più 7 quanto fa? fa 12 è un anno gli ebrei 12 mesi fa un anno quindi alla fine dell'undicesimo anno di Sedechia eh praticamente finisce anche il governaturato no? quindi sembra che qui tutto quanto sia finito quando l'autore riguarda dice la completa desodorazione di Gerusalemme si riferisce a questo momento ma stanno così veramente le cose? la domanda è questo è questa quante deportazioni sono state? in questo momento quando la città cate è completamente priva di abitanti oppure può succedere ancora qualcosa? cosa che la la società non parte la pevata ad esempio vi ho letto del governaturato ci accerteremo se di cosa stanno così se veramente c'è la completa desolazione la società ogni volta vi dice guarda la completa desolazione perché in quel momento c'è la distruzione del tempo la distruzione della città viene tutto bruciato tutte le persone 18.000 vengono portate via e finisce anche il governaturato finisce tutto quanto quindi la terra è completamente desolata è quello di cui parlava Geronia nella sua profezia se è tutto desolato vuol dire che la data del 607 sta lì sta lì no vediamolo vediamo cosa diventa anche Nassir a Babilonia dalla vista di Nassir ha menzionato nella storia soltanto alcuni vengono nominati in Arbidia e questi sono Tilapideser secondo cronache del 1820 chiamato anche Pulla Agazza di Giuda che gli diede aiuto per combattere gli edomiti e i filizzeri e gli israeliti i loro fratelli pagandolo profumatamente ma questo gli ha messo le corna alla fine si è preso i quattrini ed è scappato con un malloppo e per cui non va a aiutarli per niente poi c'è Sargon ma Isaia lo nomina a capitolo 20 versetto 21 chi altro è nominato nella Bibbia dei re di Assiria Sennacherib e ti dice che nel quattordicesimo anno di Ezechia quindi se andiamo se va nell'enco del re di Giuda nel quattordicesimo anno lui assediò Gesù e vi ricordate questo esempio questo fatto che avvenne così clamoroso che l'angelo del Signore si era accampato e che fece morire 185 mila c'era l'assedio stava per essere conquistata la città a un certo punto arriva qualcuno dice la peste in una notte 185 mila guerrieri muoiono e questi levano l'assedio e se le ritornano in fatica e fallisce l'assedio di Gerusalemme e c'era Sennacherib allora che portava avanti queste cose poi è Sardone figlio di Sennacherib che salì al trono dopo l'uccisione del padre da parte di altri due fratelli e quei fratelli hanno ucciso il padre e poi lui ha preso il potere così dice la Bibbia questi sono nomi riporti anche dalla storia ufficiale anche nella storia ufficiale certamente non ci sono no 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 nell'archeologia vabbiamo visti questi nomi proprio sì questi qui sono poi poi dico esattamente quelli che vengono detti Sennacherib e Saradona Assubanipala lo chiamano Sardana Pallo Davide no e Eltra 410 riportate in Eltra 410 questo è riportato in secondo re 172 no quest'altro in secondo re 1937 quindi sono nominati nella storia e sono nominati nella Bibbia ecco delle morte sì esatto sì sì si ma aspetta però non confondere con i tre deportati che sono Daniele e che gli cambiano il nome in Baldassare no non c'è sì no io voglio dire che a volte viene riportato il suo nome il suo nome sì sì sempre sì poi ancora intanto intanto Babilonia c'è la Siria cresce il potere di Babilonia che poi conquisterà la Siria intanto a Babilonia cresceva la potenza di Shama Shushum Uchim l'abbiamo visto durante lo studio dell'arqueologia ma non è questo riportato sulla Bibbia qui successe il figlio Candamano re di Assia sto parlando di storia in questo momento l'impero babilonese di fatto inizia con Nabopolosa non è riportato sulla Bibbia Nabopoloso sì ma il padre non viene riportato sulla Bibbia vi ricordate la vista storica di Babilonia quando abbiamo fatto un po' difficile ricordarsi perché sono nomi pure un po' strani Nabopolosa Nebukatese Nabopoloso Amel Marduk Neriglasa Abbasci Marduk Nabonidus e Necretto Bel Cialzar e Nabonidus questi sono riportati Nabucodonosor questo è riportato Nabucodonosor poi Badassare è riportato allora di questi vengono nominati nella Bibbia solo Nabucodonosor e Bil Merlach e Badassare e le riportiamo le riportiamo poi perché hanno un'interazione con quello che succede in Yuda la domanda è questa quando inizia a regnare Nabucodonosor c'è Geremia 25 uno che ti dice che la parola rivolta a Geremia riguarda tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Yodiakim figlio di Giosia e di Giuda ed era il primo anno di Nabucodonosor e di Babilonia perché lo Spirito Santo gli fa mettere queste cose qui mi domando perché mai guarda come è preciso dice il quarto anno di Yodiakim era il primo anno di Nabucodonosor allora io comincio a mettere in fase i due regni con questi riferimenti biblici e quando finisce il suo regno il secondo re 25-27 dice è il 37esimo anno della deportazione di Yodiakim e la scrittura ne parla in due casi questo è il Merlach che mette in libertà Yodiakim l'abbiamo visto anche durante lo studio dell'arcologia quando c'erano quelle tavolette in cui si diceva che c'era la relazione giornale e l'idea vi ricordate che vedete come la storia dell'arcologia vanno di pari passo e si comprendono uno con l'altro e si rafforzano uno con l'altro quindi quando finisce attraverso questo versetto secondo re 25-27 si riesce a risalire a quando finisce il regno di Nabucodonosor adesso lo vediamo poi riportato sulla cronologia queste due scritture ci consentono di un'intera fase il regno di Nabucodonosor con il regno di Giuda da dove iniziano i 37 anni di cui parla la scrittura riguardo gli OYAKIN da dove iniziano basta ritornare un po' indietro vediamo se si è prima davanti torniamo torniamo indietro in meglio guardate dove inizia la deportazione di Yoyakim finisce il regno di Yoyakim 11 anni da questo punto inizia la deportazione e va avanti per 37 anni a un certo punto finisce il regno di Giuda però avete visto con quello riferimento il primo anno di Nabucodonosor era l'anno tot di quell'altro lo vediamo adesso io riesco a continuare ad andare avanti nella cronologia allora iniziano i 37 anni di prigionia di Yoyakim nel punto che abbiamo visto ed erano 8 anni e 3 mesi dall'inizio di Nabucodonosor quindi 7 anni più 3 mesi più 37 vanno circa 44 anni e 3 mesi siamo tra i 45 anni di Nabucodonosor diciamo ma come fanno a fare questi conti se voi ripigliate quella cronologia ci arrivate tranquillamente e poi se proprio non siete convinti c'è questo versetto Geremia 25-3 e ti fa fare la prova se il calcolo è corretto perché ci sono i 18 anni rimanenti di Giosia più 3 mesi di Yoyakim più 4 anni di Yoyakim più 23 anni più 3 mesi e ti fa fare questo versetto di far fare gli stessi conteggi arriva gli stessi risultati vediamo direttamente sullo schema allora Gioriakim è il figlio di Giosia che gli ha 11 anni l'abbiamo visto poi inizio dell'asseggio di Gerusalemme in Daniele al capitolo 1 versetti da Roma 7 leggere un po' su Daniele peccato la mia la facciamo finire Daniele capito 1 versetti da Roma 7 Daniele 1 da Roma 7 il terzo anno del re di Yoyakim il re di Chiuda Nabucodonosor il re di Babilonia marciò contro Gerusalemme e l'assedio e il Signore gli chiede nelle mani di Yoyakim il re di Chiuda è una parte degli arredi della casa di Dio la Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shiner nella casa del suo Dio animise nella casa del tesoro del suo Dio il re disse a Aspenaz capo dei suoi uomini di condutti dei figli di Israele di istituto per reale o di famiglie nobili dovevano essere ragazzi senza difetti fisici e per l'aspetto dotati di ogni saggezza istruiti intelligenti capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei caldei il re assegnò loro una nazione giornaliera di cibi della sua tavola e dei vini che gli beveva e ordinò di istruirli per tre anni dopo quali sarebbero passati al servizio del re allora guardate il terzo anno di Joachim te lo dice abbiamo letto il terzo anno di Joachim inizia l'assedio di Gerusalemme ed avviene la prima deportazione tra questi deportati c'era Daniele questi giovani nella prima deportazione e questo avviene il terzo anno di Joachim poi che cosa succede? l'anno successivo il quarto anno inizia il regno di Nabucodonosor quindi quando inizia il primo anno di Nabucodonosor e riferimento che avevamo visto in Geremia 25 da 1 a 3 praticamente Nabucodonosor già aveva posto l'assedio e c'era Nabotola Sar che comandava in Babilonia il padre e lui infatti sale sul regno un anno dopo che aveva già conquistato Gerusalemme quindi il vero inizio del regno di Nabucodonosor secondo Geremia 25 da 1 a 3 e il primo anno di Nabucodonosor corrisponde al quarto anno di Joachim poi che sta succedendo ancora il decimo anno di Joachim c'è la decontazione di 3.023 giudei Geremia 52 28 leggiamo poi proviamo secondo me è il caso di sbenderle finiamo questo schema e finiamo perché stiamo andando fuori 52 28 52 29 questo è il popolo che Nabucodonosor condusse in esilio il zentimo anno 3.023 giudei il centesimo anno di Zorrimio deportò a Giosalemi 832 persone il ventitresimo anno di Nabucodonosor ne è busata capitano la guardia deportò 745 giudei in tutto 4.600 allora ti sta dicendo che il settimo anno di Nabucodonosor abbiamo visto che finirà per 45 anni deporta 3.023 giudei ne aveva già deportati il trezzo anno di Giosalemi ma secondo me anche Damiere 1.7 e c'era anche Damiere Di Mezzo e poi ti dice tre deportazioni ancora deporta 18.000 persone l'abbiamo letto dice l'abbiamo fatto i conti 18.000 persone all'ottavo anno di Nabucodonosor e poi c'è ancora ai tempi di Yoyakin che si ribella che regna per tre mesi siccome si ribella torna di No un'altra mazzata e porta e deporta anche Yoyakin quindi portami anche qui delle persone a Sedechia figlio di Giosi ciò sia poi subentra Sedechia perché chiaramente Yoyakin viene fatto fuori e subentra Sedechia subentra Sedechia nel primo anno di Sedechia quindi vedete un mestruo in fase perenni dal quarto anno di Yoyakin la scrittura corrisponde al primo anno di Nabucodonosor e così via portando avanti la durata dei regni portando avanti la durata dei regni facendo i raffronti nel primo anno di Sedechia il non anno di Nabucodonosor e guardando Sedechia andando avanti ci accorgiamo al primo anno come abbiamo visto il nonno anno di Nabucodonosor il nonno anno il decimo giorno del decimo mese Nabucodonosor inizia l'assedio e corrisponde al diciassettesimo anno di Nabucodonosor secondo la cronologia babilonese e poi il decimo anno la devolfazione di 832 Giudei e non è finita qui il nonno anno che è l'undicesimo anno di Sedechia viene aperta una breccia nella città poi il settimo giorno del quinto mese conquista la città e lascia alcuni più poveri nel paese e quindi ci sono ancora delle persone andando avanti ancora il primo anno di distruzione siamo entrati perché è già stato vissuto Gerusalemme eccellente hanno il primo anno di distruzione che è il trentesimo anno di Nabucodonosor e così via noi arriviamo alla quarto anno della distruzione c'è l'ultima deportazione 745 anni secondo Geremia allora la prima desolazione di Gerusalemme in quale parte sta? la completa e quindi al ventidesimo anno di Nabucodonosor è il quattro anno della caduta della città come fa la tua rediguardia a far corrimare le due date? non è possibile allora o parli della distruzione di Gerusalemme la fine dei regni oppure parli della completa desolazione non puoi accostare le due cose onestamente e farle passare per una cosa sola e metterci una sola data l'ultima l'ultima deportazione si c'è scritto l'avvento lì Geremia 52 30 e corrisponde l'ultima deportazione al ventidesimo anno di Nabucodonosor è questo qui è il quarto anno dopo la distruzione quarto anno dopo la distruzione questo lo dobbiamo ancora vedere questo lo dobbiamo ancora vedere la prossima volta con questo metodo intanto abbiamo già capito abbiamo fatto soltanto la prima pesata la prima pesata poi vediamo la differenza ci si risale attraverso queste monologie però un certo punto ci dobbiamo affermare perché la figlia si ferma e qui c'è un punto interrogativo con la nostra fede grazie